TGR giornale radio della Puglia 46 decessi per coronavirus in 24 ore, nuovi positivi sopra quota 1000 si allungano i tempi per la vaccinazione degli ultraottantenni due anni di indagini serrate per chiudere il cerchio sull'omicidio di Domenico Capriati, tre persone arrestate a Bari a Molfetta, mare più sicuro per i bagnanti nuovi ordini della seconda guerra mondiale recuperati sui fondali il Bari al San Nicola non va oltre il pareggio contro la squadra Fanalino di Coda del Girone traballa la panchina di mister Autieri sono le 7, 18 minuti e 44 secondi buongiorno e bentrovati dalla TGR Puglia in studio Renato Piccoli in regia Antonio De Pinto cura la parte tecnica il Covid in Puglia rallenta ma continua a far paura soprattutto per l'alto numero di decessi da lunedì prossimo dovrebbero partire le prenotazioni per la vaccinazione degli under 80 ma i tempi saranno più lunghi del previsto anche perché il vaccino AstraZeneca come da direttiva del Ministero della Salute potrà essere somministrato solo agli under 55 a preoccupare sono i decessi delle ultime 24 ore ma anche l'impatto generale della pandemia la seconda ondata a partire da settembre ha causato 5 volte più vittime della prima in media un lutto ogni 340 famiglie novembre, dicembre e gennaio i mesi più pesanti dopo il calo natalizio la media settimanale dei decessi torna verso i 30 quotidiani ed è in forte salita letalità e mortalità in Puglia sotto la media nazionale ma il costo dell'epidemia resta insostenibile sarebbe il caso di accelerare le vaccinazioni le scorte sono 39.000 dosi altre 186.000 attese entro fine mese il primo carico da venerdì l'assessore alla salute Pierluigi Lopalco stima che entro marzo si riuscirà a stento a vaccinare gli ultraottantenni che in Puglia sono più di 260.000 finora 1 su 40 ha ricevuto l'iniezione anti-covid all'ospedale Perrino di Brindisi una struttura mobile della protezione civile di 200 metri quadri sarà dedicata alla vaccinazione del personale e nelle fasi successive della popolazione generale verifiche dei carabinieri del NAS dopo il focolaio della RSA Santa Caterina di Adelfia nel Barese i 75 contagi riscontrati dopo la festa con cui ospiti e operatori avevano celebrato la prima dose di vaccino nessuna iniziativa della procura finora si tratta di capire se siano state commesse irregolarità Gaetano Prisciantelli TGR Puglia la polizia di Brindisi la polizia locale di Brindisi sotto la pressione del coronavirus oltre 20 unità costrette a fare i conti con il covid-19 tanto da costringere l'amministrazione a ridurre i servizi per i cittadini attualmente vi sono due casi accertati di positività mentre altri tre agenti risultati positivi al tampone antigenico hanno effettuato il test molecolare sono in attesa del risponso 16 tra genti e personale vario le persone in isolamento per contatti stretti con i contagiati passiamo alla cronaca che ci porta a Bari tre persone sono state arrestate per l'omicidio di Domenico Capriati 49 anni ucciso nel quartiere Iapige era il 21 novembre del 2018 l'agguato scaturì da un contrasto nello storico gruppo criminale di Bari Vecchia Domenico Capriati nipote del boss detenuto Antonio Capriati sarebbe stato ucciso dall'ex braccio destro del capo clan Domenico Monti 62 anni soprannominato Mimmo il Biondo la sera del 21 novembre 2018 ci fu una esecuzione mafiosa in piena regola sottolineano gli investigatori Domenico Capriati in auto stava rientrando a casa Iapigia in due lo attendevano all'interno del cortile prima una raffica di mitraglietta poi il colpo di grazia alla testa morì in ospedale il giorno dopo illesi la moglie e il figlio che erano con lui la vittima da poco scarcerata aveva tentato di riaffermare la sua egemonia sul territorio scontrandosi con due famiglie affiliate al clan Larizzi e Monti Maurizio Larizzi 38 anni è ritenuto il mandante figura emergente nel contesto criminale si stava ritagliando uno spazio sempre maggiore nella gestione dello spaccio nel gruppo di fuoco anche il genero di Monti Cristian De Tuglio Monti Larizzi e De Tuglio sono stati arrestati si cercano ancora i basisti la scena del delitto è a pochi passi dalla casa di un altro boss barese Savinuccio Parisi la direzione distrettuale antimafia non esclude che i Parisi e i Palermiti che controllano quel rione possano aver dato il beneplacito all'omicidio subito dopo l'agguato non ci fu alcuna reazione dei clan ma gli arresti potrebbero innescare nuove fibrillazioni Fulvio Totaro TGR Puglia è stato fermato in Brasile Alduino Giannotta 59 anni originario di Acquarica del Capo ritenuto la mente criminale della rete di narcotraffico internazionale sgominata dall'antimafia e dalla questura di Lecce con l'operazione Schipper l'uomo è stato raggiunto nell'azienda agricola dove si era trasferito con la moglie brasiliana dove gestiva un'impresa di costruzioni recuperata dopo poche ore di indagini l'attrezzatura sub rubata a Taranto e utilizzata per le attività di bambini e ragazzi disabili sentiamo sono contento perché le vorrei riusare queste attrezzature e sono contento anche per loro che le potranno riusare attrezzatura subacquea destinata all'istruzione di bambini e ragazzi disabili rubata da un garage e recuperata dai poliziotti della questura di Taranto Fulvio Manco capo squadra mobile della questura di Taranto l'operazione è durata meno di 24 ore la squadra Falchi ha subito individuato gli autori di questo reato si è messa sulle loro tracce sono riusciti appunto ad individuarli a denunciarli e a recuperare l'area furtiva che restituiremo a questi bambini a questi ragazzi ai loro istruttori soddisfatti i ragazzi tornati in possesso degli strumenti per le attività anche terapeutiche si tantissimo soprattutto di andare sott'acqua e di sentirsi liberi i presunti autori sono due pregiudicati i tarantini di 28 e 19 anni già sotto osservazione dai poliziotti perché sospettati di altri furti nel centro città le immagini riprese dalle telecamere hanno confermato i sospetti degli investigatori già che i due uomini al momento del fermo avevano indosso gli stessi abiti della notte in cui è avvenuto il furto denunciati a piede libero i due sono accusati di furto gravato in concorso Mimo Spina TGR Puglia 50 milioni di euro destinati al progetto di un acquario a Taranto in uno degli ultimi atti firmati dal premier Giuseppe Conte prima delle dimissioni lo stanziamento passa al vaglio della Corte dei Conti prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale obiettivi del progetto un osservatorio ecologico sul Mar Piccolo tutela della biodiversità ricerca scientifica da avviare entro quattro anni ora invece ci immergiamo nel mare di Molfetta dopo la Capitaneria di Porto ha completato un'operazione di bonifica alla ricerca di bombe e ordini della seconda guerra mondiale che continuano a mettere a rischio spiagge e bagnanti si riparano ancora i danni della seconda guerra mondiale bonifica belliche in corso a Molfetta alla ricerca di bombe e ordini anche chimici quelli al fosforo ancora presenti sono molto pericolosi oltre che inquinanti una larga area messa a setaccio di oltre 33 mila metri quadri lontano dalla battigia per 40 che si spinge ad una profondità di 4 metri dopo gli interventi al nuovo porto commerciale si è passati al chilometro di costa verso Giovinazzo fino alla torre Gavetone al lavoro con subacquei per le ispezioni dopo il rilevamento delle mine lo sdaico la capitaneria di Porto procede a farle brillare l'amministrazione comunale mira a riaprire questo tratto di mare che proprio a causa di questi residui ogni anno interdetto alla balneazione entro la prossima estate i fondali marini di questa spiaggia saranno finalmente ripuliti il comune con fondi dello stato sta economicamente affrontando l'onerosa spesa dal 43 si combatte con questa grave problematica insorge il sindaco Tommaso Minervini quest'anno puntiamo alla dichiarazione di Molfetta bombe free Giussi Utano TGR Puglia e a questo proposito sull'operazione di bonifica nel porto di Molfetta sentiamo Ania Toviso ingegnere Sono ordini comunque molto pericolosi soprattutto gli ordini chimici che possono provocare anche forti escoriazioni appunto alla pelle purtroppo a causa di mareggiate molto importanti che a volte si verificano durante il periodo invernale con moto ondoso importante questi ordini sono stati ritrovati anche a riva o comunque veramente a pochi metri dalla riva e quindi sia nel 2018 19-20 ci sono stati questi ritrovamenti Parliamo di ambiente dopo il report dell'Agenzia regionale per l'ambiente l'ARPA sulla presenza di PM10 ci siamo tornati proprio all'ARPA per capire quanto sia salubre l'aria che respiriamo La qualità dell'aria che respiriamo è uno dei fattori che più incide sulle nostre condizioni di vita diretto il legame tra inquinamento atmosferico e salute umana sempre alta l'attenzione al tema L'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente avvalendosi di personale altamente specializzato utilizzando protocolli validati a livello internazionale e strumentazioni certificate provvede a fornire dati costantemente aggiornati sulla qualità dell'aria in Puglia Lorenzo Angiuli del centro regionale area di ARPA Puglia Oggi la rete di monitoraggio che ARPA gestisce è formata da più di 50 stazioni di monitoraggio dislocate sull'intero territorio regionale con una maggiore concentrazione in quelle aree in cui ci sono criticità più elevate quindi le aree industriali di Brindisi e Taranto e i grossi centri urbani come Bari oltre alla rete fissa di monitoraggio ARPA gestisce dei laboratori mobili Fiorella Mazzone del centro regionale area di ARPA Puglia Le stazioni di monitoraggio e nei laboratori mobili sono presenti analizzatori automatici che analizzano in continuo la concentrazione in area ambiente di tutti gli inquinanti previsti dalla normativa nazionale che è il recepimento di quella europea e sono il PM10 il PM25 l'ozono il benzene gli ostri di azoto di zolfo e il monossido di carbonio Giovanni Matera TGR Puglia Sport calcio il Bari pareggia al San Nicola per 1-1 contro la Cavese al termine di una partita nella quale i pugliesi non hanno brillato un pari che il sapore di un passo falso nell'ambito della sempre più difficile rincorsa verso la vetta saldamente occupata dalla capolista ternana traballa la panchina di mister Autieri ed ora il meteo Buon giovedì a tutti da Alex Guarini di Rai Pubblica Utilità prevalenza di bel tempo oggi ma anche nei prossimi giorni su tutta la Puglia grazie a un deciso rinforzo dell'alta pressione che favorisce un vero e proprio anticipo della stagione primaverile sarà soltanto però un assaggio infatti nella prossima settimana tornerà l'inverno con l'ingresso di nuove perturbazioni dall'Atlantico ma intanto godiamoci giornate miti e gradevoli con cielo poco nuvoloso e temperature che continueranno ad aumentare oggi le massime sfioreranno anche i 18-20 gradi sui nostri capoluoghi situazione tranquilla anche sul fronte dei venti che risulteranno deboli variabili o di berezza mari calmi o quasi calmi su tutti i settori vi segnalo tuttavia un ulteriore aumento del tasso di umidità nelle ore serali e notturne in quelle del primo mattino nelle quali ci sarà la formazione di qualche banco di nebbia su Altamurgia e Salento con questo è tutto dal Rai Pubblica Utilità su informazioni dell'Aeronautica Militare appuntamento ai prossimi aggiornamenti ed è tutto grazie per essere stati con noi tra un po' su Rai 3 c'è Buongiorno Regione noi da qui vi auguriamo buona giornata abbiamo trasmesso TGR giornale radio della Puglia Grazie a tutti i nostri spettatori